Anna, se voi veniste a sapere che qualcuno è sul punto di commettere un crimine, che cosa fareste? Figli della madre russi, aspettate! C'è un solo modo per salvare il popolo! Uccidere tutti quelli che lo soffocano! Libertà! 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 Che vecchi! So che cosa state preparando. Sono venuto a dirvi di non uccidere. Aspettate! Voi dovete ascoltarmi. È tutto stabilito, tutto pronto. Solo voi potete fermarli. Voi siete pazzo! Cosa gli avete raccontato? Gli avete parlato dei vostri rapporti con quei criminali? Non convincerete mai il popolo! Noi preferiamo lottare. Solo voi potete aiutarmi. Cosa è successo? Fermate il Granduca. Bisogna che non vada, che non vada assolutamente alla cattedrale. Imputato Dostoevsky, da voi oggi non abbiamo sentito altro che falsità, menzogne. Lo sapete? Che cosa rischiate? Se libero pensiero significa desiderare il meglio per il proprio popolo, allora forse sì, forse è vero. Io sono un libero pensatore. Io sono un libero pensatore.